Non si fermano le segnalazioni da parte di diversi cittadini che denunciano l'abbandono di rifiuti dislocato in diversi punti della città. Le più recenti in ordine cronologico riguardano il quartiere della Celletta, dove pochi giorni fa in via Tomasini i residenti hanno segnalato la presenza di un secchio fatiscente contenente dell'olio esausto. Poco distante in via Brandani, accanto ai cassonetti, è stato abbandonato e non ancora rimosso un sanitario. Così come sono diversi i rifiuti che ciclicamente vengono rinvenuti ai bordi del fiume Foglia. Le denunce però non si fermano unicamente al comune di Pesaro. A Tavulia infatti il sindaco Francesca Paolucci ha sottolineato diversi episodi di inciviltà dovuti all'abbandono della spazzatura. Da qui l'intenzione di installare delle telecamere utili a scovare i responsabili dei gesti illeciti. Succede ovunque, vedo poi in qualsiasi comune posti di questo tipo, però non è pensabile che nel mondo, nel momento in cui siamo, dove i servizi ci sono, dove le possibilità anche gratuite di raccogliere, smaltire i rifiuti esistono, uno lascia, butta dal finestrino qualsiasi tipo di cose, fa una passeggiata, lascia le bottiglie di vetro e tanto altro. Quindi i sacchetti addirittura vengono gettati dal finestrino delle macchine anziché buttarli negli appositi contenitori. Non comprendo il motivo di queste azioni, se non maleducazione, ignoranza, non ci sono altre giustificazioni. È chiaro che non si può essere più tolleranti, bisogna, anche se non sono molto contenta di dover decidere di mettere telecamere ovunque perché la gente va controllata, perché ritengo che le persone debbano anche avere la loro privacy sempre e ovunque, però siamo arrivati al dunque, quindi è necessario, abbiamo iniziato, sono già state installate delle telecamere, delle fototrappola e sono già state riprese persone che gettano rifiuti, li lasciano fuori dal cassonetto o lungo la strada. Anche ogni cento metri più o meno ci troviamo una batteria di contenitori. Se vedi che un contenitore è pieno, fai cento passi e lo butti in quello più vicino, invece no, si lascia lì e non è vero che la società deve compensare la tua inciviltà, la tua ignoranza, tu devi fare la tua parte, i rifiuti li produciamo noi, non cadono dal cielo, sono prodotti dalle persone e le persone ne devono essere responsabili, il servizio c'è e tutte le volte che dobbiamo andare a prendere rifiuti lungo le strade è un costo per la collettività. Grazie.